Svolta nell'omicidio di Giuseppina Iacona, la farmacista uccisa a Blufi, paesino delle Madonie nel Padermitano, durante una tentata rapina. Angelo Porcello, uno dei due balordi ritenuti responsabili del delitto, reo confesso, avrebbe agito per amore di una donna. E l'ipotesi degli inquirenti, dopo il ritrovamento di un biglietto nella casa dell'assassino, nel quale era scritto L'ho fatto per te, amore mio. Si tratterebbe di una lettera d'amore, appunto, scritta per una 35enne sposata con figli, ma legata da stretti vincoli di sangue con Porcello, che avrebbe potuto, secondo le ipotesi degli inquirenti, spingere l'assassino a compiere la delittuosa rapina. Una pista che si sta valutando con attenzione. La giovane donna, come detto sposata e madre di tre figli, avrebbe suggerito a Porcello di commettere la rapina poi sfociata nell'omicidio. Proprio per questo la posizione della donna è al vaglio degli investigatori, che sospettano una pianificazione chiara del colpo. Infatti il pregiudicato era ben informato, sapeva che l'anziana farmacista custodiva in casa un discreto gruzzolo, circa 250.000 euro. Un delitto non d'impeto, dunque, come si era pensato nei primi momenti. Non una reazione violenta, ma tutto premeditato. Porcello avrebbe poi aspettato la visita dei carabinieri, una delle tante che quotidianamente riceveva per evitare che violasse gli arresti domiciliari. E poi avrebbe puntato direttamente ai soldi che l'anziana farmacista teneva in casa al piano di sopra. Ma l'arrivo dei militari della stazione di Petralia Soprana, avvisati da alcuni cittadini che avevano sentito qualcosa di strano, avrebbe fatto saltare i piani dell'assassino, che è riuscito ad arraffare appena 14.000 euro. Se il colpo grosso fosse andato a buon fine, Porcello aveva pianificato anche una sua fuga all'estero con la donna che lo aveva indotto al colpo.